Le recensioni cinematografiche del Gansino Un sequel che racconta con ironia i lati positivi della terza età Le nostre quattro protagoniste, dopo il lockdown, decidono di fare un viaggio in Italia per festeggiare l'addio annubilato di una di loro, Vivian, che è stata single per tutta la vita Ne succederanno di tutti i colori, ma con delle bellissime sorprese Film di genere commedia romantica, dura 1 ora e 45 minuti in programmazione a Pisa e presso la multisala Odeon visto giovedì 11 maggio 2023 alle ore 19.10 proiettato in formato panoramico e senza interruzione Regi Classica commedia con un cast eccezionale Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen, Andy Garcia e tanti attori italiani tra cui Giancarlo Giannini, nonché comparseno strane girato interamente in Italia, fra Roma, Venezia, Firenze e le colline del Chianti In questi luoghi si svolgeranno le avventure e disavventure delle protagoniste del sequel del primo film del 2018 Il trascorrere della terza età raccontato con ironia, garbo, divertimento e un pizzico di caccia all'uomo, che potrebbe ricordare alla lontana il famoso Sex and the City mantenendo però l'originalità della trama Il finale bellissimo non credo faccia presagire un altro sequel Stroncato dalla critica online che ritiene che in questo film l'Italia è malamente rappresentata e non si dà risalto alle bellezze artistiche bensì ad una Disneyland per turisti facoltosi Personalmente non ho visto tutto questo bensì un gioco di ironia sul sour fare del maschio latino il classico latin lover con uno sfondo alle canzoni classiche italiane e moderne che sono tutti elementi di vantaggio per il nostro bel paese datosi che il film viene visto con piacere negli USA e in tutto il mondo Ancora una volta chiedo a questi critici online ma perché non vi spogliate di quella serietà offuscata che vi acceca? E poi, ma siete sempre sicuri di aver visto questo film? Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole Difetti I difetti di questo film mancano dal primo all'ultimo fotogramma Valutazione finale complessiva Piacevole, divertente, ironico, con un pizzico di fantasia Meraviglioso, entusiasmante e chi più ne ha più ne metta La migliore commedia USA Assolutamente ne vale la pena Non perdetelo